Ciao ragazze, finalmente torno con un nuovo video, questo sarà il video della collezione di Essence, la Hello Autumn Allora, cosa ho preso? Sul blog vi ho fatto LOL di quella prima parte di cose che avevo trovato poi ne ho trovate delle altre, infatti sul blog queste non le ho trovate però aggiornerò il post sicuramente Prima cosa, le due matite, le due matite sono queste due non l'ho ancora provata come Casal, ma l'ho provata soltanto sulla palpebra mobile ho provato appunto questa qui, la marrone, e poi l'ho fissata sopra con un pigmento Allora, le matite sono queste due, la verde e la marrone, entrambi hanno lo sfumino e le colorazioni sono queste due Eccole, lo faccio vedere Questa è la verde e questa è la marrone Fra le due devo dire che la marrone per quanto sia più banale come colorazione è quella che mi ha colpito di più perché comunque se la sfumate sulla palpebra cioè se la mettete sulla palpebra come base tirerà fuori, si vedono più dei riflessini mentre nella verde un po' si perdono però comunque per 1,89€ insomma si possono provare ho preso il blush che ve l'ho già sbocciato qui per non perdere tempo si tratta appunto di un blush che si adatta al pH della pelle quindi cambierà colorazione in base alla vostra pelle su di me, vedete, risulta un rosa molto tranquillo, molto discreto per nulla esagerato e vedete sul dito si vede un po' di più che macchia un po' e infatti sul blush nella confezione è riportato qui dietro macchia la pelle lì per lì mi sembrava appunto chissà quale colore esagerato ma in realtà appunto vedete che è molto molto chiaro e si presenta così un rosa chiarissimo, quasi bianco semplicissimo, senza nessun disegno, senza nessuna cosa che appunto poi varia in base al pH della pelle poi i prezzi ve li scriverò magari nell'info box perché non me li ricordo tutti poi ho preso l'illuminante che è bellissimo con queste foglie appunto da trama proprio molto autunnale e rilascia appunto un leggero, molto leggero, colorito marroncino chiaro tipo bronzato l'ho usato come illuminante è molto discreto perché appunto non è eccessivo e loro diciamo l'hanno fatta nascere come cipria polvere multicolorata ma di cipria sinceramente io avendo una pelle appunto un po' mista non la userei come cipria ma come illuminante per questo mi è piaciuto e costa mi sembra sui 4 euro e qualcosa ora non ricordo per finire di prodotti occhi ci sono le palettine queste due allora sul blog vi ho fatto tutti gli swatch infatti vi linko l'articolo così poi ve lo andate a vedere con calma è inutile che rifaccio gli swatch ho preso questa qui che è la 0 1 appunto che dirvi sugli occhi non l'ho ancora provata quindi non posso dare giudizi affrettati per quanto riguarda però gli swatch che ho dovuto fare per il blog ho notato che comunque questi tre colori sono del tutto inesistenti sono pochissimo pigmentati per fare le foto sul blog ho dovuto calcare parecchio perché non si vedevano mentre gli ultimi tre sono più scriventi essendo un po' più scuri l'ultimo in particolare ha una buona scrivenza ma appunto perché ha un colore di per sé molto scuro devo essere sincera non la consiglierei o a meno che la usate tipo con i long lasting di Kiko di Waiko giustificare e fissare il prodotto in crema oppure con gli ombretti in crema i soli non è che siano proprio scriventissimi ecco diciamola così anche perché poi queste palettine mi sembra che costavano sui 4,89 euro quindi non è tantissimo ma neanche poco da giustificare comunque tre colori chiari che non scrivano un po' meglio è questa qui la 02 che presenta i colori più sul verde infatti questi 4 colori scrivono un po' meglio e questi due però siamo sempre il solito discorso di prima quindi nel caso se proprio dovete prendere prendete questa che è quella che mi sembra un po' meglio a livello di pigmentazione per finire ci sono i due prodotti labbra che io in un primo momento non avevo trovato appunto e che ho trovato dopo ho già usato il rose e devo dire mi è piaciuto tantissimo possiamo paragonare tranquillamente a questo qui che era uscito con gli 6 matt e ora vi faccio vedere appunto la differenza allora questo qui rosa più chiaro è quello della dell'Elo Autumn e questo qui appunto è il vecchio Stay Matte come colore è un po' più scuro leggermente questo qui vedete quindi non può essere un diupo però la consistenza è la solita vedete e poi ho preso l'altro colore il rosso questi qui nuovi sia il rosa che il rosso Essence ci dice che hanno un finish semi matte quindi semi opaco e il rosso ve lo faccio vedere qui è questo qui vedete molto bello non vedo l'ora di provarlo questo ancora non l'ho provato neanche mezza volta quindi non saprei dire assolutamente niente per finire vi faccio vedere lo smaltino che è questo qui sempre della linea Thermo Effect quindi Cold è 8 ed è appunto lo 0 4 e ve lo faccio vedere su un pezzettino di scotch perché di questo abbiamo un dupe perfetto proprio perché è il solito colore e ora ve lo faccio vedere ecco ecco praticamente sono uguali e hanno appunto lo stesso anche lo stesso effetto perché anche quello della Road Trip come potete vedere sono tutte e due Thermo Effect quindi praticamente è il solito smalto e questa cosa sinceramente non mi è piaciuta dalla boccetta può sembrare che questo qui della Hello Autumn è un po' più chiaro rispetto a questo ma in realtà appunto come potete vedere è sempre il solito appunto vedete guardate è sempre il solito quindi vabbè che dire questa cosa non mi è piaciuta sinceramente perché a giro di due collezioni cioè riproporre lo stesso prodotto spacciandolo per nuovo e cambiando il packaging sinceramente la trovo una cosa insensata comunque poi per finire vi faccio vedere invece i regalini che ho preso per voi per quelle ragazze che mi seguono sempre perché appunto magari trovano i miei video interessanti e che mi seguono con affetto allora vi ho preso la palettina questa qui la 02 che appunto fra le due era quella che mi sembrava un po' meglio a livello di pigmentazione poi vi ho preso l'illuminante questo qui vi ho preso il blush e poi vi ho preso per finire questo qui perché quello rosso non c'era più ce n'era solo uno e l'ho preso per me quindi il il lip cream rosa e cosa fare per avere questi prodotti sempre solite cose non è che cambia nulla essere iscritti ovviamente al mio canale se vi va iscrivetevi al mio blog e mi dite però anche il nome che siete iscritti sia su youtube che sul blog nei commenti commentate con quanti commenti volete l'unica cosa commenti sensati cioè nel senso non ciao grazie prego partecipo perché li trovo sinceramente inutili infatti quei commenti lì o li elimino o non ne tengo conto quindi frasi di senso compiuto se vi va potete iscrivermi cosa vorreste vedere magari sul mio canale darmi dei suggerimenti e niente poi vi iscriverò nell'info box quando chiuderà appunto il giveaway e niente poi se vi va condividetelo per chi ovviamente ha i social sui social bene con questo è tutto vi mando un mega bacio vado a finire un post per il blog che sono in estremo ritardo ciao ciao